Bello ragazzi, siamo qua, tornati a un nuovo video, oggi siamo qua, tornati con la reaction, oggi si gioca Napoli-Bologna Oggi partita incredibile, oggi non voglio sentire ma, voglio sentire solo vittoria, perché oggi sono entusiasta di questa partita Oggi voglio vincere contro il Bologna, che è una grande squadra, quest'anno sta facendo un bel campionato, un bel allenatore Ma oggi voglio vittoria, però, prima di andare a reagire a questo primo tempo di Napoli-Bologna, andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli Perché sono importanti ragazzi, prima di andare a questo primo tempo, voglio vedere le formazioni, poi andiamo a reagire Andiamo a vedere le formazioni, dai 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 Allora per il Napoli gioca Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juanjesus, Olivera, Caius, Lobotica, Anguissa, Quaraskelia, Osimè Eppolitano, questa è la formazione del Napoli, se i rischi ormai non gioca più ragazzi Comunque, questa è la formazione E ragazzi, adesso noi c'è proprio tempo, speriamo di vincere So che il Bologna è una bella squadra quest'anno, con un bel allenatore E speriamo di fare una bella partita ragazzi, giochiamo in casa, bisogna vincere ragazzi Dobbiamo fare questa zona Europa League almeno, zona Europa League, ragazzi, dai Stiamo messi un po' male quest'anno, ma non mi interessa, mi interessa vincere Giochiamo in casa, voglio una bella vittoria oggi Perciò adesso c'è un primo tempo di Napoli-Bologna Forza Napoli, dai! Ragazzi, c'è quel primo tempo di Napoli-Bologna Dai, dai, dai Vittoria, voglio una vittoria Oh, subito a quara Dai! Oh! Oh! Ma come si fa? Ma come si fa? Ma dai, era fuori gioco però Ma dai, ragazzi, era fuori gioco questo Era fuori gioco lo di Zik-Zi, dai, ragà Ma non l'ha fischiato l'albitro Non lo sa, ci sentisci, ma lui fuori gioco non ha fischiato Era fuori gioco ragazzi Ma come gol? Dai, che sfiga Ragazzi, guarda, mi rischia Mi applai, calzoni, mi applai E' un'altra cosa, Mardenne, a 10 minuti Ma che si fa? A te mi vieni, veramente Ma come ti fai fatto, eh? Ti ho fatto fatto, come vuoi ti hai fatto fatto? Eglià! Ma ancora! Ma che stiamo combinando? Ma che stiamo combinando? Ma anche un 10 minuti Ma che cavolo è? Dai! Svegliatevi, porca trone Svegliatevi Ma che state combinando? Ma te siete scesi in campo? Ma te siete scesi? State dormendo, state State dormendo State dormendo, state State dormendo State dormendo Vergognatevi 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 Che vergogna Siete una vergogna siete Siete una vergogna Noi voglio in due minuti Ma che state facendo? Siete dormendo e basta Egli non vedi 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 Ma come si fai a giocare così? Dai, ragazzi Trocate in casa Per 2 ore da 0 In 12 minuti Ma che? Vedi Ti scompinare tutta cosa Ti scompinare Tutto Tutto Ti scompinare Tutto 2 a 0 Oggi dai Amma mia Le paese Tutti quando Vergognatevi Vergognatevi Mamma Arruate Tira Come si fa? Rigore Rigore Finalmente Finalmente Rigore Perosimeno Che si è buttata a terra Dai Godo Amma segnata Dai Come si fa? Come è possibile? Come è possibile? Anche il rigore Sbagliamo Ma che scass Ma non ci faccio più Basta Basta Sei una vergogna Lo state facendo apposta Lo state facendo Si vede proprio ragazzi Ma si vede Dai Ma com'è possibile? Vai giù Dai Non ricordi che si sbaglia Dai Com'è possibile? Martello ci vada così Ma è stata inguagliata Che state combinare? Chi sta? Ma stessa palla Mamma Che lancio è? Che lancio è? Ma che stanno fanno? Ma che stanno giocando? Ragazzi c'è qualche tempo Ragazzi c'è qualche tempo 2 a 0 per il Bologna Ragazzi Male 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 Ragazzi Neanche il rigore Dato acqua Cosimene Siamo anche un po' sforzo Una di noi Comunque Bologna 12 minuti di gol Ragazzi Adesso noi c'è una stanza tempo E me C'è una stanza tempo Speriamo Facciamo un gol Almeno Di quale sbagliare C'è una stanza tempo Forza Napoli Ragazzi In stanza tempo Di Napoli-Bologna Cerchiamo di La partita Di questo secondo tempo Stiamo perdendo 2 a 0 Ma voglio Un bel Napoli Vai Metti là E' parata E' parata E' parata E' pazzo Portiniere Dai Mi facci E' parata Dai Oh ma Vieni Tira E' avanciato E' avanciato Così bene Mamma Ma dai Come si fa Dai ragazzi Ma bisogna la paglia Andiamo Che ci fa ragazzi Anche questa Anche questa Ambarata la paglia Con la punta Delle dita Che vi consegne Grazie Un prossimo video Ragazzi Lasciate Mi piace Iscrivete Napoli Mi ha messo male Questo anno Non vedete Niente più Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi